Buongiorno, signorina. Mi ha riservato un biglietto per Tokyo? Lei è un bello aspetto oggi. Sono disolata, signor Presidente. Ho dimenticato questo dettaglio. Non vuol far perdermi l'affare del secolo. Non è possibile. Si dia da fare. Mi trovi un biglietto in fretta. Con più energia. La macchina lo trovi. Me ne occupo subito. No, non ci posso credere. Che lo faccia. Lo confesso. Sì, una prenotazione per Tokyo. L'ultimo volo, sì. Mancanza di professionalità. Una vergogna. Non ci posso credere. L'affare del secolo. Io mi perdo l'affare del secolo. D'accordo. È troppo tardi. Per farvi rimedio. Grazie, sì. Sì, sì. Per il volo delle 20 e 30, per favore. È molto importante. Aspetto. È in linea con l'airline. La preghiamo di stare... Signorina, io ho perso l'aereo e per questo sarà pulita. Lei sarà pulita. Sono disolata. In attesa, lei conosce la tariffa che deve pagare per un errore come questo.